Entra in campo al posto di Defendi Ricordiamo che... Sarau al centro si chiude il como Arbito e Giosa non lasciano spazio all'attaccante di casa Allora c'è conclusione da Giosa Giosa di nuovo in passaggio Assessore il pallone batte lungo verso le noci In attenzione c'è De Sousa al centro dell'area Braccato da Bonolini Simone Andrea Gans Siamo partiti male, molto male Abbiamo preso le gocche un premio l'anno scorso Si libera di Zaro, entra in area Poi di Tacco Non riesce ad arrivare sul pallone il sinistro Colpo di Tacco di Cristiani Poi con lunga la traiettoria per Gans Defendi Non riesce a mangiare Prego per ancora balla sulla linea Mediana la formazione Di Colella che entra in area La gara Se ne sono sorpresi I giocatori Nella propria del particolare Anderson La conclusione Scatto di Cristiani Con il suo aggancio Il pallone sul secolo Di metri Qui la palla va buttata in bordo Invece Calma fietta Pallone ancora in area Pallone ancora in area Tra l'altro a proposito di Cochi Italian Di Lega Pro Channel E appunto due squadre che hanno ottenuto Grandi successi Ma attenzione Seguiamo la attenzione A questa impulsione Le noci alla battuta Lungo Tra l'azione in mezzo Cercare E se ne metta il gol Subito La rete del Como Per chi menti Ribattuto Dal Como che riparte Adesso in velocità Finisce Spioventi del numero 10 La li hanno a cercare in aria Una Andrana Ecco Stanno avanti il Como Cristiani Prova metterle in mezzo La Fautario Bisce tutto alla difesa del Pordenone Ma ancora il Como Ganza Ancora Prosini Chiuso dal intervento di Barbuti Le mette ancora Prosini Cercare Ganza Che la c'è il Pordenone Due gol Adesso Ora Questa Palla lunga Della fine Importante Per l'attacco Pertutto A Denis Makan Attaccata A classe 1984 Tutto in regolare Ancora il Como In avanti Resta in avanti La squadra L'Ariana Con la Gans Per De Sousa Una palla di dietro Per Cristiani Quindi Ganza Va Ganza E che gol Simone Andrea Ganza Lo stupendo Tiro Sotto l'incrocio Alla sinistra Di Mazzichetto E fa Riesplodere Con Prapparo Per De Sousa Proprio Ganza Si allarga Sulla destra Cristiani Ganza Preferisce Attendere Invece Il coordinone Il coordinone Che avrebbe iniziato Con Lamberto Zauri Tecnico E' stato poi Esonerato Adesso Trovarsi Stabilmente La squadra Azione Ancora Ganza Pericoloso Suo tir Bazzichetto A Palla Ancora Il Como Però Con Ganza Pazza In avanti Cristiani Quindi Ganza Va In seguimento Della sfera Commettendo Però Fa Vincere Contrarsi Il Como Ha proprio La palla Allo stesso De Sousa Che ottiene Uno scambio Con Ganza Icona Per i tifosi Del Como Si resta A terra Soprattutto Quest'anno In più Dell'ottimo Lavoro Tattico Del tecnico Colella Adesso recupera La palla Il Como Pressing Di Simone Andrea Ganza Il Como De Sousa Perfetto Questa volta Ispirazione Per Ganza E poi C'è la chiusura Da parte Di Migliorini Palla Va dalle parti Del portiere Bazzini Mario Che poi La scarica Proprio Per le noci Nel di rigore Il palla In mezzo Per il tocco Si vuole Unici Ganza Che segna Così Il suo Terzo Gol Il campionato Un tocco Di prima Col destro Che non Perfetto Perfetto Perfetto